39 giorni, in che proprio un mese eh sì sono curioso di vedere quella cazzo di lancia granate c'è anche l'arpione vecchio adesso hanno aggiunto hai visto? sì, c'è l'arpione che tu praticamente, sì, è come un dardo della balestra, solo che lo puoi anche recuperare eh, è come il giavelotto pari pari infatti voglio capire un po' come funziona perché secondo me diventa sgrava quell'arma lì cioè hai un proiettile che è una granata, un proiettile che puoi recuperare, ciao diventa veramente sgrava quell'arma lì poi io non so se l'arma sarà compatta quindi penso che deve avere qualche ammastro comunque perfetto per usarla credo eh allora il boss è già esiliato cioè è già morto, bisogna soltanto esiliarlo oh cazzo, se ciao sarà un cazzo di delirio hanno tutti il naso al campo sicuro hanno fatto subito le siringhe tanto per 5 minuti non credo che durerà fino a più di un tot ti viste? eh eccole bellini loro non ci credo non l'ho presa oh sì hittato è mutato oh shit è lì dietro lui alle rocce eh lo so c'è un emulatore adosso ok vabbè tranquillo eccolo ancora lì ma è da solo? no no l'ho ucciso l'altro l'hai deshottato all'inizio al primo colpo è tipo qua il calavero gli ho fatto un colpo assurdo lui è qua dietro ecco perché non l'ho evitato allora io qua si difeso no dai morto headshot oh no 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 ha restato c'è un altro ha restato aspetta che frango balessa esplosiva no vabbè doppia balessa esplosiva vecchio l'ho ucciso l'ho hittato pure con la frag e non era morto eh merda sento un'armia di là oh l'ho anche hittato con la frag e non è morto non ci credo balessa esplosiva doppia balessa esplosiva no vabbè si si che schifo che lurido che lurido l'altro è qua dove l'ho dishottato di voi che schifo di perc balestra e uppercut ah mi prendo le ammo no così dammi sta cazzo di mosine ok scopati alder li sei fatti tutti te uuuh ship the killer forte hai giocato la partita prima è bravino lì qua eh occhio là in cima ma è uno no 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 sono in tre la taglia ce n'è una sola magari un singolo dici no no non è un singolo sicuramente in team però un qua 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 la finestrella merda per un attimo sei affacciato ti prego rifallo cioè è passato lì perché si stavano fightando ecco la finestra ma va uh li sparano dalla casa dalla casa di sinistra sparano c'è nemmeno uno lì si lo sento io controllo dalla taglia ma sono scesi sono usciti no sì l'hai stato dietro al carretto grande occhio qua dal boss ce n'è un altro ce n'è un altro ce n'è un altro ce n'è un altro preso è scappato dentro la casa sai che forse non l'avevo ucciso ce n'è un altro in casa sì non l'hai ucciso allora si sono separati sti due allora uno è in una casa e uno nell'altra non hanno ucciso uno mi sa del team hanno ucciso quello che avevamo colpito noi eh sì sì mi muovo io è qua tipo lo sento di qua sulla sinistra grande ok grande sono rimasti uno per team continuo a girare perché almeno quello non della taglia dell'altro team non resta sì sì sto caricando io uh merda preso bastardo uno stava rientrando non so se è arrestato cazzo quella merda di cambio dove sarà morto questo qua e soprattutto chi l'ha ucciso loro loro l'hanno ucciso loro delle taglie ah eccolo qua taglia che si affaccia qui io luto questo lo brucio eh minca crown crown e uppercut o lo trappolo lo trappolo magari ci può tornare utile lo trappolo perché almeno se lo resta il crown potrebbe tornarci utile in effetti a posto è iper trappato occhio al suo amico oh vi sono delle taglie sono lì che che gironzo credo che l'ho ucciso il pen ombra io io ho sparato io ho sparato a quello con la magliettina bianca tiro uno e non è morto l'ho preso io sono ucciso il pen ombra eccolo lo bombardo un po' è fuori è uscito sa che è rientrato si confermo qua no morto minchia non è morto con un colpo di di fare è successo anche a me occhio alle taglie sono uscite si si pushano uno è entrato qua ha preso la patacola una qua ce l'uno dietro al carretto si sta avvicinando enormi corti sicuro uno si sta avvicinando da questo lato si si lo so che è quello full vita l'altro one shot aia prenditi cover hittato buono guarda che gli è andata bene il bastardo ho hittato l'altro è qua a casa sinistra sento l'altro c'ha le doppie questo qua sono usciti tutti e due hittato tiruno con la maglia bianca si sono raggruppati sono tutti due lì dietro adesso eh ma è quello one shot se non lo vedo merda mi ha preso hittato vattene quello con la carabina siccome è vecchio è quello one shot quello vestito di scuro sì se non hanno fatto il banish ma sparato io non l'ho visto ma c'è no no c'è più ma è stato colpito non è stato colpito da un dardo sì sì lo so c'è un altro team a destra è nella casa del boss cazzo potremmo andare a fare il banish vedi si stanno fightando c'è uno è qua eh ce la va con me hanno aperto qua eh mi sa che vogliono pushare me no perché ci sono anch'io qua con te comunque ci sarà un singolo da quel lato di là non mi provo a fare una roba dai 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 che ci riesco oh mi è arrivato il dardo ok mi è arrivato il dardo anche a me adesso anche che mandi alle taglie ecco è lì e senti è qua è dentro al boss andiamo 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 dove sono dove sono di là merda eh proviamo a seguirli ne hanno forse ne hanno uno one shot questo stronzo è stato tre ore qua e non è riuscito neanche a usciterne uno quelli riescono a scappare sta a vedere non ci credo l'ho mancato di un pelo ci provo ma non so se ci riesco colpito papà da dietro nooo non ci credo non ci credo aspettiamo l'altro aspettiamo quello là che deve uscire adesso vaffanculo ah ma è uscire di là dai stronzo perché l'immolatore non arrivare un paio di coglioni scusa sai che penso che sia il terzo di quelli che abbiamo ucciso dentro la casa eh il terzo non può essere eravamo in team da due ma eravamo in team da due no no siamo in team da tre eh come siamo in team da tre si ah io pensavo che siamo in team da due eh no siamo in team da tre eh allora andato a restare sono usciti non si può switchare la solo in team da tre puoi giocare eh bobo allora andiamocene perché se tanto così guarda un po' gli arrestati sicuro io ci voglio comunque guardare c'è il crown lì sulla rampa eh no no eh è stato arrestato l'arrestato sono usciti sì sì minchia ma io ti giuro ho convinto che eravamo in team da due porca troia no 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 ah poi solo in team da tre qua ok solo in team da tre vabbè contando che eravamo in due contro tre li abbiamo macinati eh il team da sulle montagne è scopato il team quello nelle case fuori uno se ne è riuscito a nascondere da culo quelli delle taglie io ne ho visti sempre solo due ah ma effettivamente è vero però comunque a un certo punto c'erano due skin eh esatto il penombra il penombra secondo me era quello one shot perché era quello che rischiava meno che era quello che ha ucciso quello che avevo fatto air shot io all'inizio cazzo a saperlo a saperlo allora li bruciavo nel dubbio quello col crown lo bruciavo su li bruciavo tutti e due quello là da solo non combinava una sega non restava all'inizio che ero ancora montato non ho capito mica tempo pronti via uno di quelli si è fermato boom li ho fatto hs da una montagna all'alto eh l'ho vista l'ho vista l'hs con il cazzo ce l'avevo anche io infatti io ho sparato e ho detto ma perché non l'ho preso anzi salvo la clip come è che non l'ho colpito per forza io ho visto che non l'ho preso è un'altra